Osiris. Mi hermano. E basta, ma c'è te dei nostri. Non dei miei. È l'unico nostro esperto di bombe. Lo vuoi strozzare? Fa pure, dai. Tanto lo so che si taglia sempre il filo azzurro. Che ci fa qui? È venuto da me circa sei mesi fa. Dice che ha cambiato canzone. Un cavro non sa cantare. So che preferiresti vedermi morire. È di morte atroce. Ma Dio mi ha già maledetto per quello che ho fatto a padre. Perciò sono qui. Per finire il lavoro di tuo fratello. La mia unica redenzione sta nel rimediare a quel torto. Ti prego dammi la tua pietà. E ti giuro che mi farò perdonare. O morirai provandoci? È la mia unica via. È l'unico esperto? Se no cerca sulle pagine gialle. Faccio una telefonata. Callaino 151. A presto? Qua quella? Grazie a tutti.